Ragazzi, bentornati a Dark Souls. Allora, dopo l'ultima cagnata che ho fatto, pessima, vediamo se sono dell'umanità, ma non credo. Ah, che vergogna. Non ne ho più, vabbè. Due rumori stanno a cuore, rimaneranno via. Oltretutto, stavolta mi dobbiamo farlo anche senza la resina, perché se no non spreco troppo grande. Dai! Facciamoci un po' di anime, va. C'è cazzo, però senza umanità non droppano più niente. C'è cazzo, va. C'è cazzo, va. Cazzo, va. Riscoperto. Ah, non ero andato qua sotto a prendere la rollo, però. Testone. Il primo sconfitto il Cavaliere. Nello di Pietra Blu. Non è granché, però. Non è granché, però. Non tanto non abbia niente. Non credo che c'era qualcosa. No. Cazzo. Scusate un secondo, non è vero subito. Ok, perdonatemi, così evito anche di tagliare, ci siamo, peschettino. Eh, di avanti c'è un boss pericoloso, proprio adesso lascio stare, ritorno più tardi, come se è un po' più in bolla. Allora, facciamo venire il toro, poi do il primo attacco dall'alto, dopodiché. Devo scappare di qua, poi tornare indietro e fare la stessa cosa. No, non lo ho ancora everito. Malissimo, malissimo. Non ho mai fatto così tanta fatica, oh. Forza. 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 No, no, no. l'ultima volta l'umanità non sa il ritorno si torniamo al falò cos'è uso l'umanità e livello si torniamo al falso allora vitalità stamina l'impio di vitalità forza per prima possibile cercherò di arrivare ad avere la possibilità di mettere un'arma migliore quindi serve la povera non facciamo fare questo per questo no, sprechi anche droppato mi vengono tanto spesso quei critici alle spade oh la pittana sono nella merda sono nella merda un pappino anche coi tasti delle volte porca troia ok mamma mia me l'ho vista brutta sarebbe gelato i coglioni a perdere l'umanità così merdaccia numero 1 merdaccia numero 2 merdaccia numero 3 tutto bene eccolo qua star l'altro infame qua sopra non c'è niente no cazzo se me la sono vista brutta dunque raga io col boss lì non so se è il caso perché è forte rischio di morire facilmente magari tornerò dopo tanto più o meno da sta zona qua ci passeremo ancora è vero su questo se li posso evitare però adesso andranno in un p all'inizio fa un po' allora adesso ci avviamo verso la chiesa che è un morto perduto queste vabbè le tengo potrò anche usarle però magari le tengo per un momento un po' più utopico allora qua sotto c'è il nostro amico Soler come dico di potremmo evoccare ah hello you don't look hollow i scontri importanti i am Soler of Astora an adherent of the lord of sunlight now that i am undead i have come to this great land the birthplace of lord gwyn to seek my very own son you find that strange weren't sure no need to hide your reaction i get that look all the time i amanti a parlare poblanico solo oh ahaha so i didn't scare you i have a proposition if you have a moment si the way i see it our fate appear to be intertwined in a land brimming with hollows could that really be near chance so what do you say why not help one another on this lonely journey assolutamente si caro Soler please isn't greatly well then take this but this is a bonafari per long lines i know it's bad we are amidst strange beings in a strange land the flow of time itself is convoluted with heroes centuries old phasing in and out the very fabric wavers and relations shift and obscure there's no telling how much longer your world and mine will remain in contact but use this to summon one another as spirits cross the gaps between the world and engage in jolly cooperation of course we are not the only ones engaged in this but i am a warrior of the sun spot my summon signature easily by its brilliant aura if you miss it you must be blind va bene caro Soler ci siamo allora questa porta di qua se non sbaglio non posso ancora aprirla ok allora qui adesso c'è il vivernone devo fare una corsa rischiare la bruciatura forse era meglio partire subito con la piaschetta allora qui c'è il passaggio per tornare al falò di prima io direi che vado giù e faccio una livellata poi torno su anzi faccio una livellata e vi saluto almeno non faccio venire i video troppo lunghi vitalità dai ragazzi vediamo la prossima volta vi saluto e vi ringrazio alla prossima vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio